Per me dire questo posto di turista, già con te sei te provi a un prego, come punti tra me. In verità non si tratta di un concepto di lei che noi stiamo a raiare, di una riunione che per noi attenderci. E mi sono visto che abbiamo ancora alcune cose, che mi sono completamente di accordo con lo che tratta di contenuto di lei qui. Però sì, mi sono contento, in tutto caso, con noi valori bene un po' più e con noi logra subire i 50 dollari che aveva proposto inizialmente per il Colegio Ejecutivo, che non si trova subire i 6 dollari che aveva i 75 dollari. Di come te viste qui, per me è raiare che come italiani non si tratta di apprezzare e valorare la nostra isla Boneiro più. Non si tratta di più patriotismo, non si tratta di più che la nostra isla di Balhopi. Non si tratta di tutto, non si tratta di Boneiro, non si tratta di qualcosa, non si tratta di un prodotto che non si tratta di un altro, non si tratta di un altro, non si tratta di un altro. e qui noi ci abbiamo inizialmente a questa risfera a Bnek Vonairo con cui trova le persone diecchischietti, c'è alcunaderata ed shoppire con il migliorno, non si tratta dikarre dialogo in l'Associazione Unitaria Unitaria e Sanatrepresentedi. anche se nel mio ragazzo ha accesso a delle altre cose che sono stati in casa dove proverso il loro casa come e quando viene. Quindi si non è diventata varia tra i varietà diversi artefatti e quello che può fare anche anche l'argomento come ce che avevano usando la situazione in casa, ora non li andiamo. Non è proprio l'attimato per che vinda questo tipo di cose. Pese a me racconto, per avere il valore dei nostri amici, non è messa di un prezzo, ma a me non è sufficiente per noi cobrere il bambonello, però non si può disponere infinitamente tampoco, perché non si può subire i 75 dollari, mi sono contento che pida lì, in tutto caso mi davanti sono sumamente contro, è parte che mi non so comprendere il signor diputato Tillman, che mi ha detto che aveva un sondeo a voi di tenere, tra i turisti, tanto europei come americani, ma non è disposto a pagare 40 dollari per il bambonello, come imposto, americani è disposto a pagare 60 dollari.